Nel tennis moderno emergere giocando il rovescio ad una mano è complicato. Rispetto alla controparte bimane è più complesso essenzialmente riuscire a fare due cose. Eseguirlo con poco tempo a disposizione per via dei tempi di preparazione e di apertura necessariamente più lunghi e una ricerca di palla che rende quasi impossibile colpire efficacemente il recupero laterale con una stance come si dice aperta come accade sul bimane e poi la difficoltà di riuscire ad attaccare la palla più in alto del punto ideale di impatto all'altezza delle spalle. Nel gioco di oggi dove si tira sempre più forte fin dal servizio si cerca di stare vicini alla linea di fondo per togliere tempo all'avversario fin dalla risposta e si utilizza sempre più lo spin per far saltare la palla più in alto. Scegliere di giocare al rovescio ad una mano è quindi una mezza follia almeno dal punto di vista puramente teorico. Teorico perché poi c'è e rimane la predisposizione individuale, la coordinazione e la lateralità complessiva di ognuno di noi che fa sì che per qualcuno rimanga sempre la scelta più naturale e che quindi qualche folle anche tra i professionisti ci sia ancora. Due di questi pazzi tra i più noti sono appunto Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov che nel pomeriggio californiano di ieri hanno dato vita ad una partita folle come la loro scelta. E folle non in termini positivi ahimè ma folle a causa della loro discontinuità quasi endemica nella gestione dell'attenzione e quindi delle scelte all'interno di un incontro di tennis. Due giocatori peraltro in profonda crisi di risultati e di conseguenza anche di fiducia, fattore questo che ha aggiunto ulteriore drammaticità e imprevedibilità ad un match che ha avuto quindi non troppa sorpresa, un andamento ondivogo e una qualità complessiva davvero bassa. In realtà la partita ha seguito in gran parte l'umore tennistico irrazionale di Shapovalov che con il suo approccio sconclusionatamente iperaggressivo ha fatto il bello il cattivo tempo lasciando Musetti per certi versi spettatore del delirio del canadese. Canadese che si è trovato a gettare via il primo set con la solita coppia ormai di doppi falli nel bel mezzo del parziale per poi riuscire a contenere un minimo i passaggi a vuoto nel secondo set sfruttando il blackout invece nel sesto game di Musetti, un blackout tra l'altro doppiato da Musetti anche nel sesto game del terzo set con Shapovalov che a quel punto sembrava decisamente avviato al passaggio del turno. Ma ovviamente questo non è accaduto sia mai perché il canadese ha pensato bene di piazzare nuovamente un game delirante, farsi controbreccare e riaprire una partita che si è poi decisa definitivamente qualche minuto dopo sul cinque pari servizio Shapovalov. Lì con un dritto steccato, un paio di volesse pellite, il solito puntualissimo doppio fallo, un'ottima risposta finale di Musetti il canadese ha ceduto nuovamente la battuta consegnando il passaggio del turno all'avversario. Per Musetti una vittoria che come direbbero quelli del calcio da morale, anche se è stata non così convincente sotto l'aspetto della prestazione pura e insomma ci vorrà decisamente ben altro contro Olga Rune, avversario di terzo turno arrivato lì senza nemmeno giocare grazie al bye e al forfei di Milos Rarnic, che per inciso non sembra più in grado di poter giocare due partite in fila. Chi non ha gli stessi problemi intrinseci sul lato del rovescio giocandolo a due mani, ma i medesimi problemi in quanto a vuoti di intensità e mancanza di continuità è Luca Nardi, ventenne da sempre di belle speranze del tennis italiano che sta cercando di valorizzare delle doti tecniche davvero notevoli. Entrato nel tabellone dalla key loser doppiamente fortunato, avendo preso il posto e il bye di una testa di serie, Nardi è riuscito a sfruttare questa fortuna vincendo un match di secondo turno molto importante contro il cinese Zhang Zizhen. Una vittoria paradossalmente di particolare valore anche perché è arrivata non attraverso una prova particolarmente scintillante o sopra le righe, ma grazie alla capacità di rimanere relativamente stabile all'interno della partita, sfruttando al contrario una giornata molto nervosa e caotica del suo avversario. Molto bravo Nardi, soprattutto a inizio terzo set, nel momento in cui dopo essersi fatto riagganciare nel punteggio avrebbe potuto, come d'altronde gli scapita spesso, perdere il filo della partita. Invece questa volta questo non è accaduto, con un break conquistato subito in apertura di parziale, difeso fino alla fine pure con una certa relativa serenità. Questa vittoria regala a Nardi niente meno che un terzo turno contro Novak Djokovic, uscito molto a fatica dal suo debutto contro Aleksandr Bukic. Non è riuscito a continuare invece il suo percorso nel tabellone Lorenzo Sonego, autore di una brutta prova contro Cameron Nordry, che se è vero che qua ci ha clamorosamente vinto un paio di stagioni fa in un'edizione autunnale un po' particolare del torneo, in questo momento appariva come un avversario o tutt'altro che proibitivo. Invece Sonego ha confermato la fatica recente nel vincere partite e soprattutto la sensazione che il suo rovescio bimane, forse il peggiore tra i primi 100 giocatori del mondo e la cui fragilità tra l'altro è aggravata dall'assenza di uno slice davvero di qualità, beh che questo rovescio e tutto il suo lato sinistro stia davvero diventando un collo di bottiglia insuperabile. E' tutto per oggi, ricordate di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e magari pure di abbonarvi se volete sostenere ulteriormente più concretamente il progetto. Noi ci vediamo domattina per l'analisi di una giornata che tra le altre partite vede anche un interessante Alcarazzoje Aliasim e l'incontro potenzialmente insidioso di Sinner contro Jan Lennar-Struf e poi l'ennesima sfida dell'anno tra Paolini e Kalinskaya. Grazie. Grazie.